La tigre del farweb che gioca a Minecraft, pompa il volume che c'è, Yook 43.16 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo episodio Questa volta siamo sul gioco tanto, molto, troppo atteso da voi GTA... di 5? 5 5, 5 GTA 5 ragazzi, si GTA 5 l'ho preso per Xbox 360 Ho preso addirittura la E-Lite e dato la... quella lì ragazzi, la Special Edition La Special Edition, ma poi la Rockstar Game mi ha mandato l'altra copia normale Anzi, no, due Vabbè, fa niente, nella Special Edition ragazzi, oltre alla scatola di ferro Questa qui Oltre alla scatola di ferro e la mappa Non c'è nulla di più eccetera eccetera Dunque, andiamo al gioco ragazzi, vi ricordo E ora farò una partita giusto per farvi vedere il gioco Facciamo magari qualche corsa Vediamo cosa fare Ragazzi, un bacione, un abbraccio a tutti Da Yook e tutto Ciao a tutti, non sto scherzando Ci vediamo nel gioco Mi raccomando, ricordatevi come sempre il pollice in su Ci vediamo Trento il gioco Eccoci qua, eccoci qua Per cui continuiamo In poche parole Dobbiamo portare Michael dal figlio Che è nei seri Noi problemi, il figlio Missione fallita Bene, ragazzi Sì, perché lasciate in pausa Il nostro caso è combinato Ma ricominciamo In poche parole ho giochicchiato un po' Ragazzi È gioco fenomenale Come da voi già risaputo Ok, se non clicco là Non possiamo andare avanti Vi ricordo che appena possiamo Abbiamo tempo Faremo un video Io assieme al capopassone Dobbiamo seguire il pallino blu Dobbiamo seguire quel tir, credo Ragazzi È manualità Nelle macchine Vramente figa 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 Il gioco La guidabilità delle macchine Vramente figa La grafica Diciamo abbastanza Ottima Ma non mi piace Sono sincero Come si spara In modo di spara Anzi Non mi fps Ok Allora Dobbiamo seguire quella cazzo Nel camion Nella barco Là Che cavolo fa Stai giù Stai giù Dove vai Non mi ricordo quello Che cavolo fa Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Mi muo Mi aiuto È caduto Ha fatto boom Rifacciamo la missione Rifacciamo la missione Ragazzi Credo che il GGA5 Se ho tempo Farò qualche video Poi la cazzeggio Come al solito E soprattutto Magari Ci guardo Live su Twitch Troverete i link In descrizione E seguitemi su Facebook Per sapere Orari Eccetera Eccetera Allora Dobbiamo seguire Quella pancone Parliamo fermando Che dobbiamo fare Io me sto cercando Nel canto sinistra E dicendo Nel canto sinistra Mie sono le missioni Le missioni Allora Stanno rubando una barca Allora Capito Che cazzo Mi sono chiamato A questo forto No Che lo schiaccio Fermati È caduto ancora Sì Uffa Sposto la telecamera Dall'altra parte Ragazzi Mi basta un clic Per aspettarla Di là E siamo ancora qua Eccoci Allora Ok Così di là a sinistra In alto L'ha dato Mi escono le missioni Le missioni Le missioni Ricordiamo Questo gioco È sviluppato Dalla Rockstar Game Dai 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 Allora La barca Slalom tra le macchine Attenzione 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 Ora Se questo qua Si starebbe fermo In macchina Invece di esce fuori Perché esce fuori Ma devo Fermare il cagno Devo farlo salire sopra Devo fare Non riesco a leggere Guidare Nel stesso tempo Se mi metto davanti Forse lo far salire Ehi se vuoi Non ho letto Cerca di un po' Nel ruoto Ok Perfetto Non posso fare un cazzo Dai sali Dove cazzo Casco Casco Dove cavolo vai Dove cavolo vai Dove casco vai Porca trota Cioè Ah qua Visto Hai visto È caduto ancora Uffa Ce la farò Comunque ho capito Ragazzi Lei in poche parole È fondato Deve saltare Sopra Bene Andiamo 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 Missione barcoide Accettata Partito Ultima prova Ultima prova La barca barcolla La barca barcolla Ma non molla Rimane appesa Dai Ora Dai Va quando si moscia Vieni di pronto Vieni di pronto Vieni di pronto Vieni di pronto Vai Ora Ora Ciao Nice Ce l'ha fatta Nice Premi B Per Per Non ci credo Hanno sparato Al motore Nice Dai Vai Vai Cosa stai facendo Pichialo Pichialo Tirali i capelli Tirali i capelli Non lo schiaffo Sali Sono un barco Sei una parte sbagliata Oh Questa che cosa Allora No Che cavolo devo fare Sto sparando Mi sparo Ah ma forse devo cambiare Scusami Forse Ok perfetto Uguale Uguale Come mi sono fallita No no Ragazzi sono un nabbo Sono un nabbo Ma questo era GTA 5 Ragazzi scusate per questo mini video Ma devo andare via con mio figlio Infatti era già pronto E mi stava aspettando Vero amore Fai ciao Ciao Ragazzi un bacione e un abbraccio Credo che questo gioco lo continuerò Molto probabilmente in live Almeno non ho tempo da perdere Per renderizzare Registrare eccetera Lo faremo su Twitch Trovate il link in descrizione Pollici in su come al solito Un bacione Un abbraccio E mi do di fare la missione Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti